Il processo partecipativo per un convegno come questo è un approfondimento vivo, dal vivo, anche perché è una tematica abbastanza così a volte imbarazzante e comunque che crea problematiche. La possibilità di creare gruppi di approfondimento immediatamente dopo spunti è secondo me molto importante e per questo problema potrebbe essere l'unica soluzione. Penso che l'importanza di questi processi partecipativi possa essere quello di avere delle persone competenti che si sono preparate sull'argomento e stimolare meglio la discussione di quello che possono fare persone che affrontano l'argomento per la prima volta. Perfetto, grazie e buon lavoro. Prego. Grazie a voi.